Sto veramente vivendo dei giorni bellissimi, stavo proprio dicendo con la famiglia, con gli amici che sono qua con noi che probabilmente per la prima volta dopo tantissimi anni stiamo attraversando un tour qua in Brasile dove abbiamo trovato del tempo per andare a giro, per visitare un po' di cose, per godersi le persone, per godersi questi bellissimi luoghi quindi siamo davvero in un mood molto positivo e devo dire che sono stra stra felice di tornare poi ad ottobre Il nostro babbo quando eravamo piccoli ci ha cresciuto con Tochigno e quindi sicuramente è uno degli artisti che conosco meglio e che ascolto da veramente tanti anni Grazie 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 Grazie